Buongiorno, io sono Fabrizio, questo è Lecan Tankerus e oggi vi porto a fare un giro nella Via della Seta. Vi ricordate cos'è la Via della Seta? Perché io sono dovuto andare a ripassare un po' di cose. La Via della Seta è una strada che viene utilizzata da migliaia di anni, si parlava ancora di imperi le prime volte che veniva usata e appunto viene utilizzata per commerciare tra occidente e oriente. C'è una città che partendo dall'oriente, andando verso il Medio Oriente o l'Impero Romano, c'è una città che è la prima città che si incontrava prima dello snodo principale di queste strade. È una città che costeggia il deserto del Taklamakan, un deserto che veniva evitato soprattutto per il nome molto rassicurante che significa ci entri ma non ci esci. Quindi capite che insomma uno tende a costeggiarlo e a non passarci in mezzo anche perché sono mille chilometri di sabbia. Alla stessa maniera, quando si commerciava dall'Occidente andando verso l'Impero Cinese, questa città è quella che quando la si trovava significava che, ok, il viaggio era andato bene. Venivano scambiati tessuti, spezie, ma anche idee, filosofie e religioni. Abbiamo importato il buddismo. Questa città di cui vi sto parlando si chiama Dunhuang. Io vorrei invitarvi ad immaginare per un secondo quello che doveva provare un commerciante che, partendo dalla sua terra, immerso nella sua cultura, vedendo un'architettura, un'arte che riconosce come proprio, riconosce comunque, si trova davvero a che fare con una cultura nuova. Ma nuova anche è l'arte, l'architettura che vede anche il paesaggio, è diverso da quello che lui è abituato a vedere, la vegetazione, tutto quanto. Immaginate che cosa deve aver provato. Vero che erano stremati dal viaggio, sicuramente perché non si arrivava in occidente o in oriente in due o tre giorni. Immaginate però l'emozione che deve aver provato questa persona, il senso di scoperta, il senso di novità, di stupore che deve aver provato questa persona. Provate a immaginarlo, avere a che fare con qualcosa di completamente nuovo. Chissà quante fantasie devono aver avuto in testa queste persone. Deve essere stato terribile e fantastico insieme. Ora io non voglio dire che questo senso di scoperta è dentro un profumo, dentro una boccetta, perché sicuramente non può tenere testa. È un'emozione del genere. Però vi devo dire che con questo profumo un po' di meraviglia l'ho provata. Quindi, com'è questo Dunwang? Che cosa c'è dentro? La prima nota che viene indicata qua sull'etichetta è il Lapsang Suchong. Che diavolo è il Lapsang Suchong? Non è niente di così assurdo. È semplicemente un tè nero cinese che viene affumicato, viene essiccato e viene affumicato con del legno di cedro o del legno di pino. Insomma, è un tè affumicato. Però questo profumo, al mio naso almeno, in apertura sa di tè al gelsomino e in effetti il tè al gelsomino è una delle note che viene indicate. Vengono indicate anche tantissime altre note, ma quella che principalmente sento in apertura è appunto quel tè fiorito, affumicato, molto agrumato. L'agrume non è un limone, è qualcosa di più dolciastro, più simile a un mandarino, un'arancia, ok? Però un'arancia amara. Quindi in apertura troveremo questo odore fiorito, secco, un po' amaro, un po' dolciastro, affumicato. Sono anni, ma anni forse no, ma almeno un anno sì che cercavo un fiorito affumicato. Finalmente, dannazione, l'ho trovato. Quindi questa apertura è quella che principalmente caratterizzerà il profumo per il resto della sua evoluzione. Però ci saranno delle variazioni, c'è un'evoluzione. Questa evoluzione, devo dire, che si sente prima, ovviamente, solo se lo spruzzate su pelle e quando il clima è un pochino più caldo. Infatti io vi consiglio questo profumo di utilizzarlo principalmente in primavera, non dico forse in estate, beh, addirittura troppo. Basta la primavera, ok? Perché d'inverno, almeno sulla mia pelle sempre, rimane per tutto il tempo quel carattere fiorito fumoso, amaro. Non cambia, non varia, non riesce ad evolvere, manca la scintilla che lo fa scattare. Il caldo, ovviamente, è quella scintilla. Ecco che quindi con l'evoluzione, col calore del corpo, il calore dell'ambiente, l'umidità, questo profumo inizia a cambiare. Il suo carattere fumoso e fiorito rimane sempre lì, abbastanza stabile, però viene un pochino soffocato, soffocato è una brutta parola, viene arrotondato, viene smussato da una nota cremosa che comincia ad emergere sul fondo, dal fondo. Cominciano a salire anche le note speziate, un filino di incenso, quelle spezie che ovviamente venivano commerciate sulle vie della seta, si sentono qua dentro, cominciano a fare capolino e sentiamo questo profumo che da amaro comincia a diventare appunto più morbido, un po' più caldo, più avvolgente, per poi sfociare completamente, alla fine dell'evoluzione, nell'asciugatura in un profumo che è quasi ambrato. Quindi immaginatevi in asciugatura un profumo ambrato, un filo fumoso ancora, con una parte cremosa e legnosa insieme e questa fioritura che lo va a contornare. Rimane sempre il carattere amaro per tutta la sua evoluzione, diventa un po' più dolce verso la fine, ma quella nota di tè devo dire che, almeno al mio naso, rimane piuttosto permanente. Non lo vedo come un profumo maschile o femminile, lo vedo davvero un profumo unisex. Quella nota fiorita risulta molto elegante, di classe, è insomma un profumo piuttosto impegnativo non tanto per l'odore ma quanto per la qualità di persona che bisogna essere per poterlo portare a pieno, ok? Per fargli fare la figura che merita di fare e fare anche noi, ovviamente, quella figura. È per una persona seria. Ne parlo come uno di quei profumi che mi ricordano come mai mi sono appassionato a questo mondo. L'apertura mi ha veramente stupito, mi ha sorpreso. È un odore che io non ho mai sentito, anche perché io tè non ne bevo, tantomeno un tè nero cinese affumicato, non ho mai avuto a che fare. Perché questo per me è un odore nuovo, che non mi ricorda niente di quello che ho già sentito. Sì ha qualcosa del tè perché ha quella parte amara, ma è talmente fiorito che mi ha ricordato qualcosa che non fa parte di questa parte del mondo, ok? Non che me l'ha ricordato, me l'ha fatto immaginare perché non sono mai stato in Asia. mi ha veramente sorpreso e mi ha fatto viaggiare, mi ha fatto incontrare qualcosa di diverso da quello a cui io sono abituato. E questa è una cosa che ovviamente apprezzo molto in un profumo. Anche quando magari il profumo non mi piace, non è questo il caso, ma anche quando un profumo non mi piace, apprezzo comunque la cosa nuova. Apprezzo l'odore nuovo che io non ho mai sentito, perché credo che possa arricchire, almeno come emozioni, come sensazioni, credo che possa arricchire una persona. E lo trovo molto buono, a parte quell'apertura che io cercavo da tempo, che era quel fiorito fumoso che non trovavo in nessun profumo, e qui c'è, a parte quello mi ha veramente entusiasmato, mi ha fatto veramente piacere, ma nel vero senso della parola, quell'evoluzione che diventa sempre più ombrata, avvolgente e calda. Ho veramente apprezzato e goduto tutta l'esperienza, dalla prima spruzzata fino all'ultimo momento in cui l'ho sentito. E tra l'altro dura abbastanza, non vi copre una giornata intera, a volte sì, dipende che cosa, dove lo spruzzate, ovviamente se prendete dentro i vestiti lo sentirete per tutto il giorno, però anche solo sulla pelle. Devo dire che 7-8 ore le fa tutte. Non è che vi fa 10 minuti con l'odore fiorito, fumoso, per poi cambiare repentinamente in un ambrato e andare avanti così per tutto il resto della durata. No, cambia in modo soffice, morbido, che si percepisce appena, ci si accorge solo quando ormai è cambiato. Avete presente quei video che mettono ogni tanto, no, di una persona che fa delle cose e poi alla fine del video scrive, non vi siete accorti che la mia maglietta ha cambiato colore e passa magari da blu a verde. Voi non l'avete visto perché il cambiamento è stato così lento da non essere percepito, no? Stessa cosa qua. È un cambiamento morbido e elegante che vi accompagnerà per tutta la durata e io lo trovo straordinario. Ok gente, io finirei qua il video. L'ultima cosa che vi devo dire è che se voi conoscete i profumi di Prin, principalmente quelli di Prissana, sappiate che ci sono alcuni suoi profumi che stanno andando fuori produzione. Alcuni di questi, vi cito quelli che interessavano a me, sono Aksan, Savitri e Haira. Haira mi sono assicurato una bottiglia, dovrebbe arrivare in questi giorni, gli altri, vabbè, li lascerò andare. Bene dai, spero che... Madonna che buono, che buono che è ragazzi. Spero possa farvi compagnia durante la primavera, se non vi interessa, vabbè, state da soli, non so cosa dirvi. Dai gente, vi saluto, fate i bravi, ma non troppo. Ci vediamo alla prossima. Ciao bene.